Ciao ragazzi, in questo video concludiamo il discorso sulle frazioni algebriche che abbiamo cominciato nei video precedenti di questa playlist parlando della divisione e dell'elevamento a potenza e vedremo infine come fare a risolvere un'espressione con le frazioni algebriche. Senza perdere altro tempo cominciamo subito occupandoci della divisione e qui l'idea è che le cose funzionano in maniera molto simile alla normale divisione tra frazioni con cui tutti abbiamo familiarità fino dalla scuola media. Come certamente ricorderete nel caso della divisione tra due frazioni quello che si fa è prendere la prima e moltiplicarla per il reciproco della seconda, ovvero per la frazione che si ottiene a partire dalla seconda scambiando il numeratore con il denominatore. E una volta che abbiamo per così dire trasformato la divisione in una moltiplicazione, prima di effettuare i prodotti conviene controllare se c'è qualcosa che si può semplificare. In questo caso posso come vedete semplificare il 4 con l'8 e mi resta un 2 al denominatore e quindi concludere che il risultato di questa divisione è 5 sesti. Come dicevo con le frazioni algebriche si procede sostanzialmente in maniera simile e per convincerci di questo diamo subito un'occhiata ad un esempio. Supponiamo che ci venga chiesto di effettuare la divisione tra queste due frazioni algebriche qui. Anche in questo caso la prima cosa da fare è trasformare la divisione nella moltiplicazione per il reciproco della seconda frazione e quindi vedete al posto di questa frazione algebrica qui nel passaggio successivo ho messo per e qui ho messo la frazione reciproca ovvero quella che rispetto a quella di partenza ha il numeratore e il denominatore scambiati tra loro. A questo punto ci troviamo davanti ad una moltiplicazione di frazioni algebriche e per risolvere questa si procede esattamente come abbiamo visto nel video precedente. Si tratta in pratica di scomporre in fattori i polinomi che ci sono al numeratore e al denominatore delle due frazioni e poi verificare se c'è qualche fattore in comune che si può semplificare. Nel nostro esempio vedete abbiamo un x più 1 che si può semplificare visto che compare sia al numeratore che al denominatore di questa seconda frazione e poi abbiamo questo x più 3 qui sotto che possiamo semplificare con il 3 più x che c'è di sopra visto che naturalmente la somma è commutativa e quindi scrivere x più 3 oppure 3 più x è la stessa cosa. Infine possiamo poi semplificare la x che abbiamo al numeratore qui sopra con l'x quadro che c'è al denominatore qui sotto e naturalmente vedete tolgo il quadrato perché ci resta una x al denominatore. E a questo punto dando un'occhiata a quello che è rimasto possiamo concludere che il risultato della nostra divisione tra frazioni algebriche è la frazione algebrica 3 meno x fratto 2x. Come vedete quindi ci sono delle forti analogie con la normale divisione tra frazioni con cui siamo abituati tutti fino dalla scuola media. Infatti anche stavolta gli step sono stati sostanzialmente i medesimi. Trasformare la divisione nella moltiplicazione per il reciproco e poi come prima vedere se c'è qualcosa che si può semplificare. Quello che in un certo senso rende il caso delle frazioni algebriche più complicato è che qui prima di effettuare le semplificazioni dobbiamo procedere con la scomposizione dei polinomi e questo può essere naturalmente più o meno lungo o più o meno facile a seconda dei polinomi che ci ritroviamo al numeratore e al denominatore delle nostre frazioni algebriche. A parentesi approfitto per ricordare a quelli di voi che magari hanno ancora qualche dubbio sul come si effettuano queste scomposizioni che ho realizzato diversi video a riguardo con tutte le tecniche spiegate passo passo e li potete trovare nella playlist linkata in descrizione qui sotto. Per concludere diamo un'occhiata alle condizioni di esistenza che è sempre opportuno indagare quando si lavora con le frazioni algebriche. Nel nostro esempio il denominatore 2x quadro si annulla in x uguale a 0 dunque dovremo imporre come condizione x diverso da 0. Il denominatore x quadro più x che si può scomporre come abbiamo visto prima in x che moltiplica x più 1 si annulla invece in x uguale a 0 di cui ci siamo già occupati e anche in x uguale a meno 1 dunque dobbiamo aggiungere x diverso da meno 1 nelle nostre condizioni di esistenza. Infine e qui bisogna stare molto attenti perché questa è una di quelle cose che uno magari nella fretta può tendere a dimenticare dobbiamo escludere anche quei valori che annullano il numeratore della frazione per cui stiamo dividendo. In questo caso vedete x quadro più 4x più 3 che si scompone in x più 3 per x più 1 si annulla in x uguale a meno 1 e di questo valore ci siamo già occupati e però anche in x uguale a meno 3 e quindi è fondamentale che io aggiunga le condizioni di esistenza anche questo x diverso da meno 3 qui. Il motivo per cui dobbiamo aggiungere alle condizioni di esistenza anche quei valori che annullano il numeratore della frazione per cui stiamo dividendo è naturalmente che in corrispondenza di quei valori se si annulla il numeratore si annulla anche l'intera frazione e quindi otterremmo una divisione per 0. Dunque mi raccomando quando si fanno le condizioni di esistenza nel caso di una divisione bisogna escludere sia i valori che annullano il denominatore che quelli che annullano il numeratore della frazione per cui stiamo dividendo. Appurato questo diamo adesso un'occhiata alle potenze con le frazioni algebriche e anche in questo caso le somiglianze con le ordinarie frazioni sono notevoli. Per convincervi di questo qui vi ho riportato due esempi di elevamento al quadrato. Nel primo caso come vedete abbiamo un normale numero razionale, una ordinaria frazione chiamiamola così, mentre sotto ci troviamo davanti ad una frazione algebrica. Come vedete in entrambi i casi per elevare al quadrato la frazione dobbiamo sostanzialmente elevare al quadrato sia il numeratore che il denominatore. Sopra quindi abbiamo 2 alla seconda che fa 4 e 3 alla seconda che fa 9, mentre nel caso della frazione algebrica abbiamo un 3x alla seconda che elevato al quadrato diventa un 9x alla quarta e al denominatore otteniamo invece il quadrato di x meno 2. Come intuite se qui invece del quadrato avessi avuto un cubo avrei allora dovuto elevare al cubo sia il numeratore che il denominatore della frazione algebrica e quindi in generale per effettuare una certa potenza di una frazione algebrica devo elevare a quella potenza lì sia il numeratore che il denominatore. Ma mi raccomando se l'esponente invece che essere intero positivo come in questo esempio è un numero intero negativo allora come ricorderete si tratta prima di fare il reciproco e poi di svoggere la potenza. Quindi ad esempio se dovessi elevare alla meno 3 questa frazione algebrica qui che cosa devo fare? Beh prima faccio il reciproco e questo in un certo senso elimina questo meno e poi devo elevare in questo caso al cubo. Dunque il risultato di questa operazione sarebbe questa frazione algebrica qui. Per quanto riguarda le condizioni di esistenza se l'elevamento è un esponente intero positivo allora resta da occuparsi solo del denominatore e quindi ad esempio in questo primo esempio sarà sufficiente imporre x diverso da 2. Mentre quando eleviamo ad un numero intero negativo bisogna sia escludere quei valori che annullano il denominatore ma anche gli eventuali valori che annullano il numeratore e questo perché nel momento in cui facciamo il reciproco quello che prima era il numeratore passatemi il termine ce lo ritroviamo al denominatore e naturalmente anche i valori che annullano quindi questo nuovo denominatore devono essere esclusi. Appurato questo per concludere il discorso sulle frazioni algebriche e ricapitolare quello che abbiamo imparato in questi tre video volevo proporvi un esempio di esercizio che ci chiede di semplificare un'espressione contenente diverse frazioni algebriche. Prima di cominciare a semplificare conviene innanzitutto occuparsi delle condizioni di esistenza e vedete che in questo caso abbiamo al denominatore un x meno 2 che si annulla in x uguale a 2 dunque dovremo imporre x diverso da 2 e poi abbiamo anche un x meno 6 che si annulla in x uguale a 6 dunque dobbiamo aggiungere alle condizioni di esistenza x diverso da 6. Come vedete ho aggiunto anche x diverso da 0 e questo perché qui c'è una divisione e quando facciamo la divisione come dicevamo prima dobbiamo tenere conto nelle condizioni di esistenza anche di quei valori che annullano il numeratore della frazione per cui stiamo dividendo e in questo caso vedete il numeratore della frazione per cui stiamo dividendo si annulla in x uguale a 0. Una volta sistemate le condizioni di esistenza ci conviene in questo esempio cominciare a svoggere le tre potenze che vedete qui. Se lo facciamo otteniamo che questa frazione algebrica elevata al cubo dà la frazione algebrica che vedete qui sotto, questa frazione algebrica quando la eleviamo al quadrato dà come risultato questa frazione algebrica qui e questa frazione algebrica quando la eleviamo al cubo diventa la frazione algebrica che vedete qui sotto. A questo punto seguendo il normale ordine delle parentesi dobbiamo svolgere la somma che abbiamo qui dentro e per fare questo dobbiamo innanzitutto trovare il minimo comune multiplo tra questi due denominatori. Come vedete avendo x meno 2 al cubo da una parte e x meno 2 al quadrato dall'altra il minimo comune multiplo sarà x meno 2 al cubo ed avremo quindi un 8x alla sesta più un x alla sesta moltiplicato per x meno 2 visto che x meno 2 al cubo diviso x meno 2 al quadrato fa proprio x meno 2 e questo lo dobbiamo moltiplicare naturalmente per il numeratore che c'era già nella seconda frazione quindi x alla sesta. A questo punto vedete abbiamo un x alla sesta per x che fa x alla settima e poi abbiamo un 8x alla sesta a cui però dobbiamo sottrarre un meno 2x alla sesta che otteniamo da qui e quindi in totale ci ritroviamo un 6x alla sesta. Arrivati a questo punto abbiamo praticamente finito perché innanzitutto vedete questa parentesi quadrata è diventata inutile quindi la possiamo togliere e al numeratore di questa frazione possiamo raccogliere un x alla sesta e quindi ottenere un x alla sesta che moltiplica x più 6. Dobbiamo a questo punto svolgere questa divisione e per farlo al solito moltiplichiamo per la frazione reciproca come abbiamo imparato a fare poco fa e a questo punto capite anche la parentesi graffa non serve più a niente e quindi vedete l'ho tolta riportando in coda la moltiplicazione per 1 fratto x meno 6 elevato al quadrato. Non resta quindi che semplificare gli x alla sesta tra di loro e gli x meno 2 al cubo tra di loro per concludere che la nostra espressione di partenza è equivalente alla frazione x più 6 fratto x meno 6 elevato al quadrato. Detto questo ragazzi io per il momento ho terminato spero con questi tre video di essere riuscito a darvi un'idea di come si opera con queste frazioni algebriche se vi fosse rimasta qualche domanda fatemela pure nei commenti qui sotto e come sempre se trovate utili queste lezioni ricordatevi di mettere mi piace passate a trovarmi su facebook ed instagram e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale dove presto arriveranno moltissimi altri video